Ci sono quei due presenze Ciao E what's up a tutti ciurma qui da Giocherina per questo breve video in cui vi devo dire un paio di robe ragazzi La prima è che quest'oggi purtroppo non posso registrare alcun video perché abbiamo i muratori in casa Ho approfittato di questo momento in cui sono andati a fare il loro spuntino, la loro pausa proprio per registrare questo video Almeno non stanno facendo casino e quindi quest'oggi sarebbe stato praticamente impossibile registrare qualsiasi cosa Visto appunto il casino eccetera E dopodiché vi devo ragazzi informare su una questione che si è sviluppata specialmente negli ultimi giorni Praticamente ragazzi ho iniziato a lavorare nel ristorante dove lavora Rodrigo Quindi ho iniziato a lavorare in cucina insomma a lavare i piatti e tutte queste robe qua Ergo era per informarvi che appunto ho iniziato anche a lavorare e che quindi anche per questo motivo potrebbe magari succedere Che ogni tanto non riuscirò proprio per questioni ragazzi di tempistiche a registrare ed editare i video Potrebbe succedere Ovviamente come vi avevo detto ragazzi qualche giorno fa ovviamente io cercherò in ogni modo di non farlo succedere Perché sapete benissimo che io i video ci tengo, ci tengo a voi, ci tengo a chi mi segue, ci tengo comunque a fare quello che faccio su youtube Però sapete anche benissimo ragazzi che io e Rodrigo vogliamo tornare in Italia E quindi questo lavoretto significa avere dei soldini in più da mettere ovviamente da parte per il grande viaggio Quindi per il grande ritorno per cui sarebbe stato stupido insomma rinunciare a quei soldini in più appunto Per cui visto che comunque ragazzi l'orario di lavoro che faccio effettivamente dovrebbe permettermi di continuare tranquillamente a fare i video Io cercherò in ogni modo di pubblicare i video tutti i giorni Se poi dovesse succedere che qualche giorno ragazzi si accavallano anche altri impegni ovviamente oltre al lavoro Impegni di cui vi parlavo appunto nell'altro video Che dobbiamo sbrigare sempre per la questione del viaggio Comunque anche per altre questioni eccetera ragazzi a cui ovviamente non possiamo dire di no Quindi potrebbe succedere che magari qualche giorno fra il lavoro, fra gli altri impegni, la casa e tutto il resto Proprio non dovrei riuscire a registrare nulla Per cui io ci tenevo comunque ad informarvi di questo perché è bene insomma che voi lo sappiate Non è che sto cercando giustificazioni appunto a quando insomma non so non dovessi riuscire a fare i video Perché magari qualcuno potrebbe venirmi a direvi li stai tirando fuori un sacco di scuse per giustificare il fatto che magari non hai più voglia di fare i video Voi sapete benissimo ragazzi quanto sia importante youtube per me Per cui nonostante tutto, nonostante mille e mille impegni, nonostante il lavoro Cercherò sempre in ogni caso ragazzi di pubblicare tutti i giorni ovviamente quando mi sarà possibile Per cui non abbiate paura, non sto lasciando youtube, non vi sto dicendo che riduco il numero di video Vi sto solo dicendo che ovviamente per forza di cose potrebbe succedere che ogni tanto non riuscirò proprio materialmente a registrare e a pubblicare nulla Per cui io vi chiedo scusa in anticipo per questo ma so che comunque mi capirete perché insomma mi state sempre molto vicini e siete sempre molto gentili e comprensivi Dopodiché come avete capito ragazzi ho interrotto la serie su Spider-Man e vi avevo chiesto appunto di consigliarmi qualche gioco carino su cui fare una serie Ovviamente ragazzi per questione di tempo e forza di cose non ho avuto ancora il tempo per sedermi tranquilla a scegliere magari uno dei giochi che mi avete consigliato E quindi effettivamente non ho ancora pronta una nuova serie da portare e portare tutti i giorni di Evil Within ragazzi secondo me sarebbe molto noioso Per cui vi chiedo di avere un attimo di pazienza quindi fino a quando non sceglierò ragazzi il nuovo gioco da portare Magari porterò un giorno sì e un giorno no di Evil Within 2 ovviamente fino a quando finirà Dopodiché ragazzi ho visto che è stato annunciato il terzo episodio di The Walking Dead La data di uscita se non sbaglio è per il 15 gennaio per cui ricordiamoci che comunque noi abbiamo ancora in sospeso le due serie su Life is Strange 2 e su The Walking Dead Final Season Per cui quelle comunque poi le porteremo quando saranno disponibili Niente penso di avervi detto tutto quello che avevo da dirvi Io vi ringrazio ancora ragazzi per l'immensa comprensione che sicuramente mi dimostrerete Vi voglio un mondo di bene Comunque ci aggiorniamo sempre sui social ragazzi non è che magari sto ad annunciarvi ogni giorno qui se pubblico o non pubblico Comunque ci sono anche i post su Youtube per cui mi raccomando state sempre connessi Seguitemi su tutti i social perché ci aggiorniamo soprattutto lì Quindi niente questo video termina qui io vi mando un saluto un bacione E ho buddoshio a tutti ragazzi Ciao Devo dire qualcosa Nyaaah Ciao